Vincendo ai punti il match che lo opponeva al Catanzarese Costantino, il peso leggero dilettante della Volio Box Giuseppe Senise ha conquistato il titolo di campione regionale di Pugilato, qualificandosi di diritto a disputare i campionati nazionali elite di Pugilato che si svolgeranno dal 3 al 7 dicembre al palasport della ridende cittadina Ionica di Gallipoli. Il 22enne Senise fin dal suono del primo gong ha imposto al combattimento ritmo e velocità che hanno disorientato non poco l'idolo locale, salito sul quadrato sicuro di poter vincere e dare ai suoi supporters una convincente prova di superiorità. Così dopo un'assenza di quasi 10 anni la Volio Box, grazie al suo bravo e temerario Lupetto del Pollino Giuseppe Senise, ritorna ai vertici della grande box, dilettantistica italiana. Gli ultimi erano stati i fratelli Domenico e Vincenzo Alfano, Maurizio e Gaetano Greco, dimostrando ancora una volta la validità tecnica della scuola castrovillarese.